numero 5 la stampante inkjet hp envy photo 6220 è un dispositivo che merita l'attenzione di tutti coloro che cercano una stampante fotografica multifunzione di alta qualità con la sua facilità d'uso e le numerose funzioni disponibili questa stampante si distingue dagli altri modelli presenti sul mercato con l'applicazione hp smart la configurazione della stampante sul tuo smartphone diventa un gioco da ragazzi non dovrai preoccuparti di complicati processi di installazione ma potrai iniziare a utilizzare la stampante in pochi semplici passaggi inoltre grazie al suo design moderno e compatto potrai posizionare questa stampante ovunque nella tua casa senza problemi trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 hp laserjet 107 w è una stampante laser compatta ma potente che ti permette di ottenere risultati straordinari senza occupare troppo spazio con una velocità di stampa di 20 pagine al minuto e un tempo di stampa della prima pagina di soli 8,3 secondi questa stampante ti offre una soluzione pratica e veloce per tutte le tue esigenze di stampa in bianco e nero grazie alla sua risoluzione massima di 1200 per 1200 punti per pollice garantisce stampe di alta qualità sia per testi che per immagini puoi utilizzare questa stampante per stampare grandi quantità di pagine con un volume di stampa mensile consigliato che va da 100 a 1500 pagine se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 3 la stampante laser multifunzione xerox b 225 è una scelta eccellente per chiunque cerchi un dispositivo compatto e versatile per gestire flussi di lavoro con documenti facile da configurare e perfetta per un piccolo ufficio domestico questa stampante monocromatica permette di stampare fino a 34 pagine al minuto grazie alla sua solidità è consigliata per lavori intensivi arrivando a una capacità di stampa fino a 2500 pagine al mese non solo stampa ma offre anche funzioni di copia e scansione per soddisfare ogni esigenza operativa in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 2 la stampante canon pix my x 6850 si rivela essere una scelta eccellente per coloro che cercano una stampante compatta per la casa grazie al suo design slim si adatta facilmente a qualsiasi angolo della tua scrivania o di altri spazi limitati ma non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte perché questa stampante è un vero e proprio campione in termini di prestazioni grazie ai suoi cinque inchiostri separati ti permette di ottenere stampe di alta qualità in modo rapido e preciso che si tratti di documenti aziendali report o immagini non ti deluderà mai trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 la stampante inkjet 3 in meno 1 epson ecotank et 2750 è davvero la soluzione perfetta per chi lavora da casa e ha bisogno di una stampante affidabile e conveniente con la sua tecnologia innovativa ecotank non dovrai più preoccuparti di sostituire frequentemente le cartucce risparmiando così tempo e denaro offre una comodità senza precedenti permettendoti di stampare fino a 14.000 pagine in bianco e nero e 5200 pagine a colori con l'inchiostro incluso all'acquisto una delle migliori caratteristiche di questa stampante è la facilità di utilizzo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione ciao 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 ciao